ciao nella lezione in cui avevamo spostato gli oggetti nello spazio 3d per creare parallasse li avevamo spostati dopo averli creati come facciamo a disegnarli fin da subito in una certa posizione nello spazio 3d per per praticità creiamo un piano e lo ingrandisco e poi porto anche un po su il cubo di default in maniera che stia sopra al piano giusto per avere anche un piano sul quale ragionare e creo un oggetto gris pencil vuoto siccome è vuoto non avrò materiali o solo black e sarà il materiale col quale disegno e devo andare in draw mode e cominciare a disegnare qualcosa magari utilizzo ink pen per poter vedere meglio quello che sto disegnando allora cerchiamo di capire dove i segni vengono tracciati normalmente se io disegno qualcosa ora qui dove è stato disegnato è stato disegnato in questa strana posizione e se ora ne faccio un altro disegno vedo che più o meno la posizione è la stessa se mi sposto un po dal basso e disegno è finito lì se vado sotto il piano e disegno non vedo niente però ho disegnato in quest'altro punto allora la posizione in cui disegno è specificata da queste due voci l'abbiamo visto quando abbiamo usato i righelli che il disegno non finiva esattamente dove si trovava un empty ma finiva appunto sempre nello stesso luogo allora quali sono le opzioni in questo caso origine come punto di passaggio del piano di disegno e infatti tutti questi cerchi passano per un piano che passa per l'origine degli assi e poi il piano di disegno è la vista quindi se io sono inclinato qui e disegno questa in questo caso disegno un rettangolo posso notare che il piano dove ho disegnato passa per l'origine ed era orientato rispetto alla vista per quello quando mi trovo in un'altra inclinazione e disegno di nuovo qualcosa è orientato rispetto a quest'altro posso bloccarlo dicendo e nella modalità cd animation fateci caso è impostato in modo diverso per esempio se io metto front xz sarebbe il piano che mi ritrovo davanti xz quando guardo le cose da davanti quando sono qui e dopo aver premuto il tasto 1 sul tastierino numerico disegno questi quattro angoli possiamo vedere che sono disegnati lì ma anche se io inclino la vista e disegno i disegni sono finiti comunque sul piano xz anche se mi inclino moltissimo ovviamente più difficile più sono inclinato più è difficile e vedete qua ho sbagliato molto quindi non vi consiglio di usare questa opzione è disegnare comunque con angolazioni molto ampie perché è difficile intuire dove vanno a finire i nostri segni vedete appaiono anche delle enormi deformazioni però questo è un modo per bloccare il disegno su un certo piano ovviamente abbiamo i tre piani possibili quindi per esempio il piano del pavimento il disegno è finito esattamente sul pavimento e altrimenti posso utilizzare anche il cursore ma nel senso dell'orientamento io non ve lo consiglio perché è un po difficile da capire normalmente la vista è esattamente quello che ci aspettiamo girando attorno a una scena 3d disegno credendo di disegnare nella vista però vedete come in questo caso ho fatto un disegno che è finito dentro al cubo se nascondo il cubo momentaneamente vedete è finito lì dentro perché passa per l'origine ma il mio disegno era vicino al cubo quindi invece di passare per l'origine io potrei decidere di passare dove passa il 3d cursor ed è l'opzione che consiglio perché è quella più facile appunto e quindi in questo caso io posso spostare il cursore 3d facendo maiuscolo click e andare a disegnare qualcosa nella posizione in cui si trova il cursore e vedete essendo inclinato secondo la vista è finito lì quindi se io volessi disegnare qualcosa qui sulla faccia del cubo posso fare spostare il cursore qui mettermi davanti e in questo modo ho disegnato esattamente sulla faccia del cubo e in realtà continuo a disegnare diciamo all'altezza della faccia del cubo anche quando non sono sopra il cubo e devo solo stare attento a non cambiare appunto inclinazione della vista altrimenti cambio per via di questo adesso annullo questi due segni se volessi continuare lì ha senso che utilizzo in questo caso front x z però posizionato sul 3d cursor ecco che il piano rimane quello frontale però non è più in un posto qualsiasi ma è nel posto dove si trova il cursore quindi mettendo per esempio il cursore qui farei un disegno sul piano frontale sempre però nel posto in cui passa il cursore e quindi diciamo molto quando si prende un po di dimestichezza è abbastanza facile comandare con queste due opzioni i posti dove devono finire i segni molto utile è la modalità surface nella modalità surface qua rimetto sotto view nella modalità surface io disegno sopra alle superfici che ci sono già le superfici 3d quindi se io disegno qui qualcosa la sto disegnando esattamente sulla superficie del cubo però la disegnata a una certa distanza la distanza è specificata qui 0,15 quindi in realtà la disegnata ben distante la disegnata 15 centimetri a nullo perché ricordate che ragiona in metri blender quindi se io la voglio disegnare a un millimetro dal cubo faccio 0,001 disegno e il segno è finito a un millimetro di distanza dal cubo volendo noi possiamo anche mettere 0 in modo tale che sia appoggiato del tutto sopra il cubo il difetto qual è e lo vedete che essendo la linea un segno tridimensionale una specie di tubo se lo metto a distanza 0 finisce per essere esattamente compenetrante col tubo e quindi crea un po di fastidio questo è il motivo per il quale è comunque meglio tenersi diciamo a un centimetro o mezzo centimetro dipende da quanto è grande la vostra scena ovviamente però vedete se vi tenete leggermente distanti fate un po di prove quindi in questo caso per esempio è troppo e il millimetro che avevo messo prima andava benissimo magari 2 millimetri e adesso questi segni sono disegnati sopra il cubo può essere anche un modo molto pratico per aggiungere dettagli a un modello 3d semplice li potete aggiungere con gris pencil in questo modo disegnandoci sopra siete sicuri che da qualsiasi parte voi vi muoviate il disegno finisce esattamente sulla superficie del cubo perché questa modalità surface obbliga tra l'altro anche di oggetti diversi quindi se io disegno qui come vedete mi metto magari esattamente qui da davanti e trascino un po di linee le linee sono tutte finite esattamente sulle due superfici quindi creo ora un altro oggetto per esempio un uv sphere la sposto qui torno nel mio oggetto gris pencil in draw mode se disegno qualcosa adesso sono ancora in modalità surface quindi come vedete finisce sulla sfera e quindi è un modo anche molto facile per dare una forma ai nostri segni se nascondo la sfera i segni come vedete hanno questa dimensione sono stati disegnati sulla sfera non ne hanno più bisogno dopo è solo il posto dove sono stati disegnati fin da subito l'ultima modalità stroke è comoda quando ci sono già dei disegni in scena allora stroke significa che si appoggia a dei disegni già esistenti a dei segni degli stroke già esistenti quindi in questo caso tutti come vedete c'è scritto tutti i punti cosa vuol dire vuol dire che se io mi recco qui e traccio questo segno lui cerca di farlo passare tutti i suoi punti per i segni esistenti quindi se lo allungo di più vedete nella seconda parte non non avendo più dei punti ai quali attaccarsi ha seguito l'indicazione che c'era già qui view e quindi è andato rispetto alla vista il comportamento può essere cambiato più che in all points è un po più facile capirlo con first point quindi io mi posiziono diciamo per esempio voglio aggiungere qualcosa qui mi posiziono secondo la vista dove vorrei aggiungere qualcosa e faccio dei segni a partire sempre da un segno esistente e come vedete sono finiti tutti nello stesso posto se li avessi fatti senza toccare niente ma qui vedete sono finiti attaccati lì quindi io in un attimo con questa modalità posso passare da davanti a dietro senza nessun problema perché il primo punto è sempre sullo stroke ovviamente punto finale invece vuol dire che io posso cominciare da qualsiasi parte finire sullo stroke e il segno viene spostato diciamo nel posto dove deve andare nel momento in cui diciamo rilascio il mouse e vedete in questo caso ha avuto questo comportamento strano che è abbastanza tipico di anche di all points se io adesso con tutta questa confusione in scena con all points traccio questa riga ha cercato di toccare tutti i punti che ci sono io di solito utilizzo first point perché cos'è una cosa comoda che si può fare con green pencil? cose come un albero quindi se io metto il cursore qui e scelgo di disegnare su 3d cursor nel piano frontale mi metto da davanti in questo caso non è quindi il piano frontale ma il piano laterale mi metto da davanti e disegno l'inizio di un albero da questo lato vedete l'ha disegnato nel 3d cursor sempre lì essendo sul piano posso guardarlo da qui e andare ad aggiungere segni poi però se facessi così rimane piatto e allora scelgo view ma scelgo anche stroke e scelgo first point e quindi che succede che io posso spostarmi di lato il segno c'è già e lui si collega automaticamente nel primo posto dove mi sono dal quale parto e quindi collega i rami automaticamente a quelli già esistenti e io spostando la vista posso dare diciamo volume al mio albero in questo modo in varie direzioni stando attento sempre a cominciare dove un segno c'è già quindi questi sono tanti strumenti che abbiamo a disposizione per disegnare le linee già direttamente nel posto in cui le vogliamo grazie e alla prossima grazie a tutti